Amici del Drama Chef, questa sera siamo scesi tra le fiamme dell'inferno o forse le fiamme del paradiso, chi può dirlo? I mangiatori di carne sicuramente diranno del paradiso. Siamo alla corona del rai di Tarzo con la nostra Walter e la nostra Carla che ci stanno preparando una carne buonissima. Senti quanti anni è che cucina la carne Walter? Che rompe sopra la griglia? 30 anni. E io sono 20 anni che mangio la carne di questo uomo e guarda che bello che sono. Vabbè vai guardare sopra, sono bello. Ragazzi se volete mangiarvi una tè, quante volte andate in ristorante e vi mangiate una tagliata che è roba per gente a dieta, roba per tastieristi, non so come spiegarvi. Qui vi mangiate una tagliata che è mezzo chilo di carne succulenta, buona. Senti, 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 senti. Ma quanto sei bravo? Ma quanto è bella questa roba. Ma no io, guarda la carne, scusa. Ragazzi vi aspettiamo, alla corona del re si mangia da re. Senti, 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 senti. Grazie mille. La costatrona. Senti, senti. Senti, senti. 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 Senti.